Ciao a tutti amici di Jovatec, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a eliminare quindi disinstallare un'applicazione per gli smart tv Samsung dal sistema operativo Tizen. Faccio questa guida in quanto mi è stata chiesta nei commenti e quindi spero sia utile alla persona che me l'ha richiesto. Ah, per disinstallare un'app basta semplicemente andare con il vostro telecomando qui sull'icona della casetta, quindi quella che ti porta poi allo smart tab e con le frecce direzionali, sinistra e destra, ci muoviamo qui nell'etichetta chiamata apps. Per confermare usiamo invece il tasto centrale. Entrando qua in apps troverete quindi la lista di tutte le varie applicazioni possibili. In alto, sempre muovendoci con le frecce direzionali del telecomando, andiamo nell'etichetta quindi impostazioni, la rondella e qui troveremo la lista di tutte quante le applicazioni. Selezioniamo quella che non ci interessa e facciamo semplicemente qua elimina. Confermiamo l'eliminazione. E vedrete che adesso l'applicazione è stata disinstallata. Fate la stessa identica cosa per tutte quelle che volete andare a disinstallare e dopo di che per tornare indietro cliccate o il tasto return, torno indietro del telecomando, lo cliccate più volte oppure ripremete il tasto casetta e con le frecce direzionali andate su tv in diretta. Con questo è tutto, spero di esservi stato ad aiuto come sempre e alla prossima su jovatec.com Grazie.